ciao allora oggi vi voglio parlare di questo mascara della essence perché ho opinioni contrastanti però intanto iniziamo a parlarne allora si chiama ainida miracle è volumizzante ed allungante la stinting complex ok la confezione è un 16 ml e viene a 4 euro e 95 allora ovviamente non già italiano ma vado di qua e mascara per un volume miracoloso fortifica ancora di più le ciglia va bene allora intanto dunque ma del new york davvero non credevo allora il prodotto è questo qui mascara e vi faccio vedere lo scovolino perché cicciotto e cicciottissimo mi piacciono questi belli cicciotti parte stretto si stringe a crescita e poi più lungo bello mi piace tantissimo questo tipo di scovolino allora cosa dire del mascara prima applicazioni lo applico ciglia davvero wow wow proprio perché mascara della essence se funzionano hanno un nero intenso che dalla prima applicazione si nota la differenza e questo tranquillamente prima applicazione si vede la differenza proprio più lunghe più corpose più infoltite più più visibili perché un nero intensissimo quindi davvero wow e scusate un secondo poi torniamo al mascara ma io mi devo chiedere scusate c'è tanti campi tantissime strade ma perché una persona deve passare sempre da questa strada va bene c'è una passeggiata con un cane che fa abbaiare tutti i cani della via questo lo voglio proprio capire non riesco a capirlo cioè io come persona quando passeggio se vedo che faccio abbaiare tutti i cani o qualunque orario cerco uno ad andare veloce e di sgaggiarmi così smettono di abbaiare e poi se lo so che ci sono dei cani lì 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 c'è un'altra strada faccio l'altra così evito di farli abbaiare tutti ma la gente proprio no è tutti i giorni tutti i giorni c'è l'altra strada ma no facciamo questa così facciamo abbaiare i cani da qua per un chilometro e mezzo tutti quanti cioè io c'è altra gente non la capisco ma non la capisco davvero tutti i giorni va bene torniamo al nostro mascara che è meglio allora vi hanno detto che applicazione wow è perfetto sia da giorno che la sera tranquillamente perché un'applicazione e si vede il risultato possiamo fare tranquillamente due o tre direi di non andare oltre il tre perché poi c'è troppo prodotto sulle ciglia comunque vi ho fatto una clip dove faccio vedere l'applicazione con un occhio senza e con il mascara così vedete la differenza un'altra parte Allora, avete visto che è fenomenale, fantastico, bellissimo. La durata, intanto durante tutta la giornata resta bello intenso, le ciglia restano bello incurvate, non si va a sgretolare, non perde pezzetti, non si appiccicano, ottimo. Non è waterproof, ma dura, certo non andate a farci la doccia, oppure non andate a sfregarlo con l'acqua, però comunque se prendete un po' di umidità o una pioggia, dura, non cura. Oppure se lacrima l'occhio, non cola. Io ho gli occhi che lacrino molto spesso e non è mai colato. E dura tranquillamente fino a sera, senza problemi. Si strucca facilmente con un qualunque struccante bifasico, oppure un olio, comunque con qualcosa di oleoso, così si rimuove anche più facilmente. Io uso l'olio di cocco e mi trovo benissimo, ma anche gli struccanti bifasici si rimuove tranquillamente, senza lasciare residui. E ora veniamo ai lati negativi, perché a me è capitato, e quindi ve lo dico anche a voi. Allora, bellissimo mascara, ma se vedete, io normalmente i mascara li finisco. Questo c'è ancora del prodotto. Perché dopo un mese e mezzo di applicazione, e uso come tutti i mascara, quindi non è che l'ho usato in un altro modo, ha preso più aria, si è contaminato, come tutti gli altri. Che normalmente mi durano fino a quando o si seccano, oppure li finisco. Questo dopo un mese e mezzo, più o meno, ha iniziato a non lasciare più colore. Cioè, si è proprio modificata la formula, infatti, adesso non so se si riesce a vedere. È super bagnato, può fare un effetto bagnato sulle ciglia, ma lascia pochissimo prodotto, pochissimo colore. Quindi devo andare a stare davvero tante, tante, tante passate perché si colorino come prima. Quindi, quando invece qualcosa nella formula che si è distrutta, si è distrutta, non lo so, resta bagnato, fa proprio l'effetto bagnato sulle ciglia, che anche si appiccicano. Però lascia pochissimo colore, quindi non le colora. Ed ho provato per di volte a fare una leccina di passate perché fossero un pochino nere. Poi ho detto, no, lasciamo perdere perché se la formula si è alterata sugli occhi, non è il massimo. Devo dire però che forse è stato sfigatello il mio, forse è stato aperto e non me ne sono accorta e quindi si è alterata la formula. Però anche per un mese e mezzo di... Scusate ancora. E dopo la gente a passeggio anche il corriere. Va bene, possiamo farcela. Dunque, stavo dicendo che per un mese e mezzo di utilizzo, wow, 4,95€ comunque sia, ci sta. Certo che i mascara dell'essence a me sono durati sempre molto di più. Cioè, o si seccavano o rifinivo. Non so, probabilmente è stato aperto, ossia... La temperatura è stata costante, quindi neanche quello. C'è stato qualcosa che non andava, ecco. Però ditemelo se avete riscontrato anche voi questo problema o è proprio sfigato il mio. Comunque sia, un mese e mezzo... Facciamo che siamo prima nella formula. Un mese e mezzo di utilizzo costante e quotidiano, 4,95€, ci sta lo stesso e quindi ve lo consiglio. Voglio sapere davvero se l'avete provato e se anche voi ho fatto questo problema con la formula perché sono curiosa. Ma secondo me è stato alterato il mio perché alla fine ho la partita perché o è stato aperto e quindi è solo il mio oppure la partita di prodotto che magari nel trasporto ha preso freddo o ha preso caldo durante lo stoccaggio. Può essere di tutto. Però non è solo a me in questo caso ma tutti quelli del negozio. Non lo so. Non lo so. Comunque mi è piaciuto e vabbè fa lo stesso. Fatemi sapere se l'avete provato, come siete trovate e se avete avuto questo problema. Io vi ricordo come sempre che se vi è piaciuto il video mettetemi un like, iscrivetevi al canale e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella così vi dovete avvisare ogni volta che carico un nuovo video. E alla prossima. Ciao! Adesso c'è io voglio dire. Cioè, porca vacca, ma qualcun altro? E adesso chi c'è? Cioè, ma è una cosa impossibile. Ma non è possibile. Ma non c'è nessuno dopo. Ma cos'è un'autostrada questa? Ma io come faccio a lavorare con della... così? Ma come si fa a lavorare così? Boh, vabbè. Imposto. Ci bevo solo per dimenticare. Indiescare. QuDY. Ciao. 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 ivi.